Le prime parole del mattino per moltissima gente osano le news su Google o quelle dei giornali, fondamentali perché, come diceva Hegel, consentono all'uomo moderno di collocarsi quotidianamente nel mondo. Le mezzi di informazione apprendiamo per lo più cattive notizie, guerre, omicidi, crisi economica, ambientale e politica sono i tratti che più sembrano definire la nostra società. Gianfranco Ravasi ci propone di respirare l'aria pura del mattino generata da quelle parole antiche o più vicine a noi che ci permettono di iniziare la giornata con anima pulita. E nello spirito del precedente Le parole giorni seleziona 366 citazioni letterarie, poetiche, filosofiche e musicali da cui prende spunto per brevi commenti, uno per ogni giorno dell'anno, uno per ogni mattino. Goethe, Molière, Maria Montessori, Enzo Biagi, Oscar Wilde, Gianni Rodari, Pascal, Don Milani. L'autore si distingue sempre per la raffinatezza ed eleganza delle sue analisi, ottimo patchwork di citazioni, indispensabile per un pensiero positivo, almeno per metà giornata.